Riduci lo zucchero, dolci alternativi e sani. Ridurre lo zucchero nella dieta è cruciale per mantenere una buona salute. Un consumo eccessivo può portare a obesità, diabete e malattie cardiache. Limitare lo zucchero contribuisce a un equilibrio alimentare, migliorando il benessere generale e prevenendo patologie croniche. Consumare troppo zucchero può avere effetti devastanti sulla salute. Oltre a favorire l'accumulo di grasso, può causare problemi dentali, aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e compromettere il sistema immunitario, esponendo a infezioni e malattie. Seguire una dieta a basso contenuto di zucchero offre numerosi benefici. Riduce il rischio di malattie croniche, aiuta a mantenere un peso sano e migliora i livelli di energia. Inoltre, può migliorare la digestione e promuovere una pelle più sana e luminosa. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. Optare per dolci senza zucchero è una scelta intelligente per chi vuole mantenere il sapore senza compromettere la salute. Utilizzare ingredienti naturali come frutta secca o dolcificanti alternativi permette di gustare prelibatezze senza gli effetti negativi dello zucchero raffinato. I dolci a base di frutta fresca offrono un'alternativa gustosa e nutriente agli zuccheri raffinati. La dolcezza naturale della frutta, unita al suo contenuto di vitamine e fibre, rende questi dolci un'opzione sana e deliziosa. Le ricette con frutta secca e semi sono ideali per chi cerca dolci nutrienti e senza zucchero. Mandorle, noci e semi di chia apportano proteine e grassi sani, rendendo ogni morso un concentrato di energia e benessere. Il cioccolato fondente senza zucchero è un piacere per il palato e una scelta intelligente per la salute. Ricco di antiossidanti presenti nel cacao, il cioccolato fondente può soddisfare la voglia di dolce senza aggiungere zuccheri raffinati. Preparare biscotti con farine alternative come quelle di mandorle o cocco può dare vita a dolci gustosi e senza glutine. Queste farine, ricche di nutrienti, offrono una texture diversa e un sapore unico. Perfetti per chi vuole variare la propria dieta. Preparare gelati fatti in casa senza zucchero è un'ottima soluzione per soddisfare la voglia di dolce senza compromettere la salute. Utilizzare ingredienti naturali come frutta fresca e yogurt permette di creare dessert gustosi e nutrienti. Smoothie e frullati naturali sono alternative sane alle bevande zuccherate. Sono facili da preparare e possono essere arricchiti con frutta, verdura e proteine. Aggiungere un po' di miele o stevia può migliorare il gusto senza aggiungere calorie vuote. È possibile realizzare pasticceria senza zucchero utilizzando ingredienti alternativi come farine integrali, frutta secca e dolcificanti naturali. Con un po' di creatività si possono ottenere dolci deliziosi che non compromettono la salute e il benessere. I dolci vegani e senza zucchero offrono un'opzione salutare e rispettosa dell'ambiente. Utilizzando ingredienti come latte di mandorla, datteri e farine alternative, è possibile creare dessert gustosi e nutrienti che soddisfano le esigenze di chi segue una dieta vegana. Leggere attentamente le etichette alimentari è fondamentale per evitare zuccheri nascosti. Molti prodotti contengono zuccheri aggiunti che possono passare inosservati. Fare attenzione agli ingredienti e preferire alimenti non trasformati aiuta a mantenere una dieta più sana e consapevole. Ridurre gradualmente lo zucchero può sembrare una sfida, ma piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Inizia sostituendo una bevanda zuccherata con acqua o tè senza zucchero. Ogni passo ti avvicina a una dieta più sana. Le bevande senza zucchero aggiunto sono un'ottima alternativa per chi vuole mantenere il gusto senza compromettere la salute. Prova infusi di erbe, tè verde e acque aromatizzate con frutta fresca per un tocco di dolcezza naturale. Consumare pasti equilibrati aiuta a ridurre la voglia di dolci. Una dieta ricca di proteine, fibre e grassi sani mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue, evitando picchi e cali che alimentano il desiderio di zuccheri. I dolci a base di yogurt naturale sono una delizia salutare. Mescola yogurt greco con frutta fresca, noci e un filo di miele per un dessert nutriente e gustoso che soddisfa la voglia di dolce senza esagerare con gli zuccheri. Sostituire lo zucchero nelle ricette tradizionali richiede creatività. Usa alternative come la stevia, il miele o la purea di frutta per dolcificare torte e biscotti. Scoprirai nuovi sapori e manterrai la salute, senza rinunciare al piacere dei dolci. La fibra è fondamentale nei dolci alternativi perché aiuta a migliorare la digestione e a mantenere un senso di sazietà più a lungo. Integrare ingredienti ricchi di fibra può rendere i dessert più nutrienti senza comprometterne il gusto. Molti hanno sperimentato cambiamenti positivi dopo aver ridotto lo zucchero nella dieta. Le testimonianze raccontano di maggiore energia, perdita di peso e miglioramento del benessere generale. Questi successi possono ispirare altri a compiere scelte alimentari più sane. È importante notare che la dieta ideale può variare in base alle esigenze individuali e che è sempre consigliabile consultare un professionista della salute per orientamenti personalizzati. Ricordate di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di condividere i vostri commenti e suggerimenti alimentari nei commenti. Iscrivetevi per rimanere aggiornati su altri video dedicati al benessere. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.